Ciao ragazzi, siamo qui su The Nemesis, nel mio metaverso, sono felice di accogliervi, è una grandissima opportunità per me, siamo qui e scoprirete tutto questo mondo piano piano che andremo avanti, oggi lo stiamo lanciando, sono felice di farlo insieme a voi con una grandissima notizia, ufficialmente sono un giocatore del Toronto da appena 5 minuti, come vedete sono appena sceso qui in Canada, vi aspetto qui numerosi più che mai per raccontarvi la trattativa, per raccontare tutte queste cose difficili che ci sono state in queste settimane, però l'importante è sempre raggiungere l'obiettivo, mi raccomando continuiamo a vederci qui in The Nemesis, un bacione grande. Stai leggendo, stai leggendo cazzo, sì cazzo, io non ce l'ho, ce l'ho. Sì cazzo, sì cazzo, la missione è compiuta, la missione è compiuta, sì, sì, sì cazzo. Sì cazzo, sì cazzo, sì cazzo, sì cazzo, sì cazzo.